Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella ricotta e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero, burro, ricotta, farina, cacao amaro, fegola di patate, vanillina, lievito per dolci vanigliato, latte, nutella e granella di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungiamo il burro, che deve essere fuso, la ricotta ed amalgamiamo per 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la vanillina, la farina, il latte, il cacao amaro, la fegola di patate, e il lievito. facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. trasferire il composto in uno stampa a ciambella del diametro di 26 centimetri ben imburrato. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo, e decoriamola con nutella e granella di nocciole. ciambella, ricotta e nutella. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!